Il potere delle parole di Omar Mikhail Ivanov Un tempo nell'iniziazione si insegnava ai discepoli come servirsi delle parole, come pronunciarle in modo da mettere in movimento le forze della natura. Le parole sono possenti, ma non sappiamo ancora servircene, né pronunciarle correttamente. Quando vi sentite abbandonati, avete l'impressione che nessuno vi ami, pronunciate la parola amore una, due, dieci volte, e in diversi modi. Potrete così provocare l'intervento delle potenze cosmiche dell'amore, con le quali non potrete mai sentirvi soli o abbandonati. Se siete immersi nel buio interiore, se vi sentite affossati nel fondo del baratro, pronunciate la parola saggezza o luce, fino a quando queste parole non vibreranno e canteranno in tutte le cellule del vostro essere. Se vi sentite oppressi, limitati, turbati, pronunciate la parola LIBERTÀ. Stralci da Il principio era il verbo di Omar Mikhail Ivanov Stralci da Il principio era il verbo di Omar Mikhail Take, Pat Hari,ние pe immánice,禁erati il mondo padronati. Così come si glike, le catt Hitachi, 34ride il mondo padronega Tag. Grazie per la la f einmaligio del transacto che sono dal canale Grazie.